Hanno anche lavorato per mettere a disposizione del lavoro che andremo a fare in palestra, uno staff di primissimo livello, composto da individualità di spicco. Cerchiamo di fare una squadra anche fuori dal campo, ben amalgamata, che possa stimolare e far lavorare bene le ragazze che poi scenderanno in campo. Le scelte sono state fatte come sempre in confronto con la società, quindi siamo convinti che è allestito un bel team anche fuori dal campo. Spiega un po' perché riesce a tornare a capire alcune caratteristiche che forse sono ben di più rispetto all'imprescia delle altre anni. Diego dopo si presenterà, non voglio togliere quello che andrà a introdurre, insomma, la tua esperienza in questa veste, insieme in categoria superiore, sia maschile che femminile, e quindi ci sarà una preparazione alle gare e agli allenamenti in simbiosi, praticamente. Quindi questo è un apporto importante. L'anno scorso posso nominare Davide, per fatto che quest'anno probabilmente ci avveniremo in orari di lavoro, tra virgolette Davide anche un... Davide anche un...